In occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, l'istituto comprensivo Bovio Mazzini con dirigente scolastica, la professoressa Anna Lamacchia, al fine di sensibilizzare alla neurodiversità, ha organizzato un laboratorio artistico ispirato alle ceramiche canosine, progettato nell'ambito del Dipartimento Inclusivo con funzione strumentale professoressa Marilena Casamassima e referente per l'infanzia in primaria insegnante Rosanna Cucci. Il progetto, coordinato dai docenti professoressa Gloria Cinto e professor Vincenzo Valenzano, ha fatto emergere lo spirito creativo e artistico dei nostri cervelli liberi, valorizzando il patrimonio archeologico del territorio. La dirigente scolastica ha predisposto che la mostra fosse allestita negli spazi esterni di entrambi i plessi, con una cerimonia corale che coinvolgerà l'intera comunità scolastica, alla presenza della testata giornalistica La Terra del Sole. Dobbiamo convincere il mondo che i nostri figli autistici sono opere d'arte. Gianluca Nicoletti. Vi aspettiamo venerdì 29 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 nei cortili delle sedi delle scuole Bobbio e Mazzini.